gentili telespettatori buona giornata matteo salvini chiede a mario draghi il premier di mettere per iscritto che le tasse non aumenteranno ma lui risponde il premier che gli impegni sono sempre stati rispettati il leader del carroccio chiede che gli italiani non paghino un euro in più e draghi dice ma io l'ho detto l'ho anche scritto infine continua questo braccio di ferro tra il leader della lega e il capo del governo e la lega vede draghi nel pomeriggio di giovedì al consiglio dei ministri matteo salvini annuncia oggi mettiamo l'accordo per iscritto lasciamo per iscritto che non aumenteranno le tasse irap iva irpef conferma flat tax e imu di lui mi fido di altri no dice salvini quindi sta dicendo che si fida di draghi però non si fida come si fida non si fida lo vuole per iscritto ma passano due ore draghi non facendo diretto riferimento sembra rispondergli dice in ogni cosa che facciamo rispettiamo gli impegni dice draghi durante la conferenza stampa di presentazione del pnr il rispetto degli impegni con l'unione europea è determinante per l'assegnazione delle risorse prosegue draghi quindi rispetto degli impegni non gli impegni con salvini ma gli impegni con l'europa che l'europa vuole appunto la riforma del catasto tra la tra le altre cose vuole la riforma del catasto ma aggiungo io l'europa non dice riforma il catasto e poi prendi più soldi riforma il catasto e basta infatti come vi stavo dicendo uno degli impegni assolutamente inderogabili è la riforma fiscale che l'europa ha chiesto a roma per dare continuità al pagamento dei soldi quindi per avere i prossimi assegni ci vuole la riforma fiscale draghi aveva ripetuto due giorni fa dopo che la lega non si era presentata al consiglio dei ministri aveva ribadito che le tasse sulla casa non aumenteranno e oggi torna sul concetto e dice ho già detto che il governo non segue il calendario elettorale lo ribadisco anche oggi è il momento di chiudere anche perché nel frattempo nel frattempo non c'è tempo nel senso che bisogna fare una valanga di riforme entro il 31 di dicembre aggiunge draghi che i tempi per approvare le riforme cominciano a diventare corti e aggiungo io e certo hai mandato il parlamento in vacanza un mese a luglio e sapendo che c'erano una montagna di riforme da fare dice aggiunge draghi abbiamo un numero rilevante di provvedimenti da approvare fino a fine anno l'azione del governo non si può fermare e poi parla di università ricerca scuola di investimenti in questi settori dello stato e di annuncia che presto un altro provvedimento sulle semplificazioni e un altro sulla concorrenza entro il mese di ottobre ma come vi dicevo il leader della lega pone le sue condizioni ammesso che a draghi gliene possa fregare qualcosa ma non di lui di tutti i politici abbiamo sempre detto e di partiti a draghi non gliene frega niente ma salvini ci prova a dettare le condizioni dice noi vogliamo che nessun italiano paghi un euro in più si parla di rimodulazione delle aliquote iva ora rimodulazione può essere in alto o in basso lo precisiamo la vogliamo in basso perché altrimenti domani dopo draghi viene al governo chiunque e con quel documento in mano vago può fare qualunque cosa mettiamo per iscritto che non si aumenti il carico fiscale a carico degli italiani in effetti il decreto che draghi continua a precisare non farà aumentare le tasse a nessuno è una preparazione per delle modifiche che in molti casi porteranno a un aumento anche enorme delle tasse come sul sul limu sulla seconda casa quindi delle riforme che chiede l'europa che vanno a modificare e a far saltar fuori un aumento delle tasse che viene congelato da draghi ma come dice salvini il prossimo che arriva potrebbe prendere quel documento dare il via all'aumento del del limu oppure direttamente questo governo prima di andare a casa potrebbe mettere quelle tasse programmate dopo qualche mese salvini interviene in radio a rtl e dice che nell'accordo con il governo si era detto che non si sarebbe inserita nessuna nuova tassa ora se noi approviamo una delega fiscale che dà mandato per una riforma del catasto e per una revisione degli estimi catastali e per una rivalutazione del valore degli immobili chiaro che chiunque sia all'ascolto e a una prima una seconda casa un immobile un capannone un terreno evidentemente se verrà rivisto e rivalutato il valore del suo immobile ci pagherà più tasse aggiungo io magari non adesso ma dopo poi sull'elezione di draghi al colle prende tempo e dice si deciderà cosa fare a febbraio in mezzo c'è la riforma delle pensioni la riforma sulla concorrenza da qui a gennaio vediamo di tutelare il lavoro e torna a parlare di green pass e dice io ho il green pass semplicemente non voglio che milioni di italiani restino senza lavoro stiamo lavorando sui tamponi per tenere i prezzi calmierati e validi per 72 ore come negli altri paesi europei ringraziamo chi si è vaccinato ma non lasciamo a casa milioni di lavoratori pubblici e privati il diritto alla salute e lavoro per tutti gli italiani il leader della lega si schiera poi contro le aperture delle discoteche al 35 per cento dice chiedo almeno il doppio ma se tu chiedi il green pass chiedi sicurezza restituisci lavoro quando ci sono le riaperture devono essere in sicurezza e totali quindi salvini chiede dal 35 al 70 per cento la capienza delle discoteche bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornate siamo anche in nell'altro canale tele italia seconda rete qui su youtube dove trovate video di politica ma non solo e poi c'è anche su facebook la pagina tele italia dove questi video di youtube li trovate condivisi dopo qualche ora mentre nella community di questo canale trovate tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare grazie a tutti e ci vediamo presto arrivederci